I finanziari del comando provinciale di Ragusa, a seguito di una mirata e complessa attività investigativa, hanno definito alla procura 10 soggetti per reati di peculata e riciclaggio in quanto a vario titolo avevano creato un ammanco di oltre 1.600.000 euro nelle case della cooperativa sociale Il Dono Ollus, con sede a Ragusa in Via Carducci, che per un decennio ha fornito assistenza ai numerosi centri di accoglienza per migranti presenti in provincia. I servizi resi dalla cooperativa rientravano nell'ambito di convenzioni che la stessa aveva stipulato con diversi enti pubblici presenti sul territorio, in particolare erogazione di pasti, vestiario, alfabetizzazione e servizi alloggiativi. Nello specifico dal comune di Ragusa ha ottenuto oltre 2.600.000 euro, dalla provincia regionale con i progetti Biscari 1.000.000 euro, dal comune di Modica 1.700.000 euro. Complessivamente la cooperativa sociale ha beneficiato di somme pubbliche per oltre 6.000.000 euro. Inoltre è stato accertato che gli amministratori avevano emesso assegni per un valore complessivo di oltre 250.000 euro tratti dal conto corrente dell'Ollus a favore di due commercialisti, anch'essi indagati, a fronte non di prestazioni consulenziali ottenute ma per il concorso alla regia degli illeciti comportamenti finalizzati al peculato.